sono distrutto sono andato a giocare a calcetto e sono pieno di dolori non alle 6 di mattina sto registrando che è notte fonda sto registrando perché come al solito tante tante novità una marea di voci di calcio mercato che come al solito ci vengono vomitate addosso e allora mischiamo le notizie più attendibili insieme a quelle più scioccanti e irreali e tenetevi forte aggrappatevi a qualcosa se mattina presto lo so a cosa vi volete aggrappare voi lo so lo so partiamo partiamo prima come al solito però vi voglio invitare a lasciare un like se ogni mattina volete un contenuto del genere lo volete fatevi male lo volete lasciate iscrivetevi per seguire i prossimi aggiornamenti sul canale è gratuito quindi potete farlo subito e sì e sì c'è un'applicazione che in tanti di voi ancora non hanno scaricato perché perché lo so perché lo so che è one football l'applicazione che gratuitamente anche questa non costa una mazza cioè vi offro tutto gratis sono un venditore ambulante che fa del bene a tutti gratuitamente potete essere aggiornati su tutte le notizie di calcio mercato già ci penso io ma qualcosa mi sfugge e allora c'è one football link in descrizione ho qui il code per scaricarla adesso partiamo partiamo dalla notizia che era pervenuta nella mattinata di ieri una proposta scioccante una proposta di quelli che ti fanno a caponare la pelle per quanti per quante cucuzze ho sentito nominare e quantificare cristiano ronaldo in arabia saudita per una cifra mostre 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 un'operazione da 300 milioni tra costo di cartellino e ingaggio per convincere ovviamente cr 7 ad andare in arabia lo riportano tvi e tvi che non conosco proprio e cnn portugal spiegando che un club arabo non sappiamo neanche di quale club si tratti e poi non è che li conosciamo i club arabi quindi ci interessa relativamente un club arabo avrebbe presentato una proposta di 30 milioni al manchester united per il cartellino e di 20 agli agenti no solite commissioni e 250 milioni in due anni al signor cristiano 250 milioni in due anni incredibile incredibile voi cosa fareste dinanti a dinanzi a una scelta del genere cosa fareste all'età di ronaldo che comunque quanti anni ha ronaldo ne ha 37 quanti anni ha ronaldo e ronaldo 5 febbraio 85 a 37 anni però è come se ne avesse 27 direte voi ed è vero magari un altro anno lo fa ma poi io questi soldi li andrei a rastrellare incredibile ovviamente non c'è dato sapere l'attendibilità di tutto ciò le fonti sono quel che sono fatto sta che conoscendo il signore con la sette sulle spalle rigetterà tutto al mettente almeno per adesso almeno per adesso vuole delle sfide impegnative siamo partiti da questo e poi andiamo a facciamo una cappatina al sassuolo perché i giocatori del sassuolo sono sempre molto chiacchierati si parla sempre di cifre importanti e c'erano sul mercato ci sono sul mercato in partenza o comunque erano chiacchierati scusate ancora se mi dilungo due giocatori su tutti scamacca e frattesi e cosa ci fa sapere carnevali il direttore generale del sassuolo a sky cosa ha detto credo sia normale che in questa fase del ritiro qualche giocatore che ha richieste possa trovarsi più in difficoltà nell'allenamento ma credo fortemente nella loro professionalità no in realtà non è questo che volevo dirvi ce ne frega una mazza scusate per scamacca siamo in attesa di novità di certo non c'è ancora nulla poi non si deve pensare solo a un discorso economico ma anche tecnico ci sta ci sta il direttore deve dirlo ci mancherebbe altro fatto sta che se veramente il West Ham ti porta 40 45 cucuzze per un giocatore come scamacca io francamente ci penserei seriamente se trattenerlo o meno per frattesi che sappiamo è forte almeno era forte la la roma per frattesi non ci sono sviluppi abbiamo incontrato la roma appunto due settimane fa e poi basta è un discorso molto lontano e tutto fermo sono curioso di vedere se poi frattesi andrà o meno alla roma per il momento è tutto in stand by almeno questo è quello che racconta il direttore altra bomba altra bomba roboante ma una roba veramente incredibile e qui ci metto la firma ci metto la firma fabregas in serie b fabregas fabregas sesc sesc facciamo prima in serie b al como incredibile ma vero accordo raggiunto tra le parti l'ex arsenal ha scelto ex arsenal celsi ha scelto di rimettersi in gioco in italia con la prospettiva di un futuro da allenatore infatti secondo me fabregas da allenatore lo vedo bene perché centrocampista con visione quindi secondo me se ha delle idee tattiche importanti potrebbe fare poi spagnolo vabbè lasciate e poi fabregas è vero l'anno scorso è stato fatto un anno al monaco dove praticamente non ha mai giocato infortuni continui a 30 35 anni non è un giovanotto però sapete per un club di serie b è sempre buono avere un giocatore del genere secondo me un giocatore che praticamente ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere quasi tutto quello che un ragazzo come me o come te che stai ascoltando perché mi stai ascoltando un minimo di calcio ti piace ti interessa giusto e se ti interessa tre sono le cose che vuoi vincere in europeo o se sei sudamericano una coppa america un mondiale e una champions lui non ha vinto la champions ma tutto il restante si ha vinto due europei ha vinto un mondiale ha vinto la premier ha vinto la liga spagnola se non sbaglio si col barcellona si se non sbaglio si quindi stiamo parlando di un giocatore pazzesco pazzesco e per il como alla grande bello bello secondo me arricchisce e non poco andiamo adesso in casa in casa napoli perché il napoli sapete con la partenza di culibali è molto molto chiacchierato abbiamo saputo da spalletti che il capitano sarà di lorenzo e ci sta ci sta l'hanno scelto i compagni e da spalletti abbiamo saputo anche che kim il giocatore che ieri è stato associato appunto al napoli che kim è un giocatore da napoli e da champions questo è quello che ha detto spalletti in realtà sky e di marzio ci fanno sapere che c'è c'è distacco cioè perché c'è distacco perché si è fatto avanti prepotentemente il ren che in questo momento complica un pochettino i piani e allora su chi ha virato o su chi sembrerebbe virare il napoli su di allo del psg sempre di marzo sempre sky sport quindi dico e condivido insieme a voi di allo del psg giocatore che in realtà ha giocato pochino al psg l'ultimo anno praticamente qualche comparsa se non sbaglio 12 presenze di ligand però al psg aveva fatto bene al borussia dortmund e lì appunto il psg se non sbaglio ha pagato 30 35 cucuzze però l'ha operato poco c'è un giocatore che lo prendi però francamente non lo so francamente io vi dico che al momento non lo so cosa va a prendere sicuramente magari in un club come il napoli può avere spazio avendo spazio può dire la sua come ho già detto in passato culibali non lo sostituisci facilmente parere personale che sia di allo che sia kim che sia cerbi che sia kikawa non lo sostituisci facilmente sul napoli si parla molto sempre molto chiacchierato di bala lo diciamo sempre lo ricordiamo nello scacchiere di spalletti sta bene nel 4 2 3 nel 4 2 3 1 anche se spalletti ha detto che giocano col 4 3 3 nel 4 3 3 farebbe la la destra o il falso 9 però sappiamo che spalletti poi mischia anche un po un po le carte quindi prima di parlare dell'aspetto tattico vediamo un pochettino come si evolve la situazione andiamo un po all'udinese sull'udinese c'è da dire di molina che è vicinissimo alla cessione all'atletico madrid è un nome che volevo farvi visto che è stato oggetto di discussione molina spesso e volentieri è stato accostato prima all'inter ultimamente alla juventus mi dispiacerebbe perderlo un giocatore del genere perché l'anno scorso ha fatto veramente veramente bene e come al solito l'atletico madrid si fionda su queste figure si fionda su qualche giocatore dell'udinese mi spiace mi spiace sembra sembra in spagna mi spiace veramente a proposito di altre squadre poi andiamo su inter mila su su inter mila si swomberg un altro giocatore che a me piace che mi piaceva tanto della bologna swomberg va al al fosburg peccato peccato un giocatore che a me a me piace un'altra roba da dire criscitiello rituitato pitullà esclusiva gattuso contatto con balotelli per portarla a valenzia ma l'attaccante è un passo dal sion avrei voluto vedere balotelli da 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 cattuso che si è ripreso castiglieco vuole prendersi politano avrei voluto vedere balotelli e fa fa se cattuso voglio vederlo all'opera cattuso al valenzi come vi dicevo andiamo in casa andiamo in casa inter lesione del legamento per dalbert quindi dalbert che era messo sul mercato sarà infortunato fino a gennaio mi dispiace pronta guarigione al ragazzo ma una sciagura incredibile a sto ragazzo con con la maglia nera azzurra incredibile veramente veramente quindi praticamente adesso rimane all'inter casato fino a gennaio poi si vedrà incredibile incredibile sempre in casa inter pinamonti molto vicino al monza a fare da 20 milioni ragazzi miei quindi il monza potrebbe prendere pinamonti lì davanti in tanti diranno sottanti pure io forse inizialmente pensavo sottanti però se penso che scamacca la sua stessa età e viene valutato 40 45 a sto punto per me non so tante visto quello che ha fatto all'empoli lo scorso lo scorso anno quindi incredibile attenzione perché nero azzurri manterebbero il dire il diritto di ricompera per 30 milioni lo scrive calciomercato.com chiusura parentesi sanchez pare che ne voglia 5 milioni no 4 ne vuole almeno 5 praticamente vuole vuole tutto l'ingaggio se lo paghiamo tutto l'ingaggio se ne va bravo sanchez non è fesso eh non è fessacchiotto e chi lo sarebbe al suo posto pochi pochi senza ombra ombra di dubbio andiamo sul milan ma c'è poco da sapere ragazzi si sono mossi poco inter milan juve c'è poco da dire in realtà si palla e si continua a parlare di di cataler avevamo detto che sky continuava ad essere fiduciosa su sport media set leggo che prosegue il forcing del milan ma c'è stato un altro un altro no del del brucio all'offerta di 28 milioni più bonus quanti soldi vuole sto brucio? i rossi e neri starebbero infatti preparando un terzo assalto da 30 milioni di base fissa più 5 di bonus arrivare a quei 35 milioni che poi dava e richiedeva dava l'altra squadra che se non sbaglio il lizz e richiedeva comunque il il brucio vediamo se ci sarà questa fondo finale sappiamo che il giocatore vuole andare al milan quindi se il milan è veramente interessato a prenderlo un pochettino alza il prezzo e lo e lo prendi un milioncino su un milioncino sotto asco punto piccola parentese sulla juve sulla juve l'unico aggiornamento sostanziale quello di cambiasso al bologna ma si sapeva già del l'ict che a quanto pare adesso starebbe pensando a rimanere così si vocifera gatta cicova no con gli acquisti fatti con il mondiale alle porte sai che c'è me non sto quasi sicuro alla juve perché alla juve sembra esserci sembra essere tornata una certa un certo entusiasmo e il ragazzo potrebbe pensare di rimanere ovvio che ovvio che il bayern di tutto questo dipende anche dal bayern se poi affonderà o meno sul sul giocatore però come abbiamo sempre detto trova troviamo un club che in questo momento ti tira fuori 80 90 milioni anche per un difensore non è non è semplice così come non lo era per screener e infatti al momento i due giocatori rimangono in italia sono contento sono contento se delitto rimane in italia se screener ovviamente da interista ne parliamo proprio di screener sapete cosa ne penso però sono contento perché per di screener per di di elite per di colivali ragazzi ci impoveriamo e sappiatelo sono delle eccezioni che che poi impoveriscono il nostro campionato e come la penso ormai penso che sia abbastanza abbastanza noto chiudiamo sulla roma sulla roma c'è tanto c'è tanto si parla tanto si parla si parla tanto sport media se ti dice che di bala si allontana più che sport media se te lo trovi un po' un po' in giro in realtà altre fonti ci riportano di bala sempre in orbita in orbita roma in realtà la roma sta assondando muriel sta assondando muriel lo riporta la gazzetta dello sport la richiesta della dea sembrerebbe altina 18 20 milioni per un ragazzo che quanto c'ha muriel c'ha oltre 30 anni muriel quanto c'ha muriel c'ha 31 anni 16 aprile 91 20 milioni non lo so l'offerta della roma è ancora troppo bassa e quindi vediamo un pochettino potrebbero rientrare nella trattativa tra talante e roma per pasaric e muriel anche pasarici quindi nella trattativa tra talante e roma per pasaric e muriel per centrocampista è possibile che li svende tutti la talante mi sembra strano potrebbe essere inserita delle contropartite giallorossi offrirebbero alla dea e il sharawi che gasperini conosce ha fatto esordire in serie a sapevo sta roba di sharawi non lo sapevo e carles peres che con murinho giustamente fatica due giocatori di 29 24 anni 29 sharawi 24 carles peres funzionale al gioco della della dea ilicic lamers e miranciuk non rientrano nel progetto tecnico del gasp quindi sono in uscita ilic lamers e miranciuk sono in uscita dall'atalanta e il club quindi valuta delle dei sostituti e potrebbero essere appunto il sharawi e carles peres vediamo un pochettino come si muovono come si muove la roma come si muovono tutte tutte le altre attorno vediamo se c'è sto registrando delle luna luna di notte vediamo se c'è qualche altra bomba proprio nel finale a luna mi sa che possiamo andare a nanna cioè io vado a nanna e a voi auguro una buona giornata niente da fare a volendo bernardeschi al toronto con insigne e crescito un toronto italiano attesa questo venerdì la firma sul contratto quindi attesa oggi praticamente sì oggi interessante ma vero va bene chiusura su dibala i fatti del giorno sostanzialmente napoli anche gli azzurri hanno effettuato un sottaggio con il procuratore anton e la loro intenzione sarebbe quella di offrire un quinquennale da 5 milioni di euro nette stagioni che potrebbe arrivare fino a 6 di bonus che è quello che già avevamo detto si sostanzialmente le solite le solite cose che già abbiamo detto e ridetto più volte fatemi sapere qual è il colpo che secondo me è fattibile fatemi sapere quello che vi pare ragazzi sotto nei commenti non vi devo non vi devo di nulla fate come vi pare nell'educazione del prossimo se è possibile e noi ci aggiorniamo con un prossimo video io vado a nanna voi auro una splendida giornata fate colazione insieme a Neskip un grande abbraccio a Neskip un abbraccio